Qua con destra in piazza, sinistra a casa, su tutto questo operato più attivo sulle piazze e qui per meno, però permettetemi di andare in Purchia, abbiamo parlato un atto di Erdogan guardate che cosa succede in Purchia, sentiamo Carmela Città Il primo a sperimentarlo pubblicamente è stato il capo del governo, il GRIM per comunicare con il quartier generale delle operazioni in corso nel cartone siriano di Antrin si tratta di PTT, acronimo per poste tutti e messager la risposta autattica a nostro potere di Whatsapp e tecnica un'app dal marchio turco, insomma, accortata a quella che lo stesso Erdogan ha diventato guerra nazionale ma in ballo non c'è solo il risposto di tachiatismo in realtà, dentro dei dettatori, questo nuovo sistema di istituzione è solo un modo per abbattere definitivamente le vede della privacy per spianare la strada, censura e controlli del resto, su web, di attenzione, la censura si stanno muovendo come battitori liberi in Parlamento, la discussione tra lecce per mettere sotto controllo nell'autorità turca per le telecomunicazioni i canali tv che trasmettono online con il rischio che questa mossa penalizzi i tanti media indipendenti spuntati sul web dopo l'ondata di attenzione seguiti a porte di questo passo da un'autorità turca per le telecomunicazioni e il milino potrebbero ottenere anche colosi della tv a un demano come mezzo di certo ci sono gli effetti della censura finora su quello pubblico dal tentato colpo di stato del 2016 sono stati chiusi 180 fra radio, tv e giornali bloccati più di 150.000 siti web mentre si trovano in carcere più di 150 operatori dell'informazione non dimentichiamo comunque quanto avviene in Turchia velocemente vi faccio vedere che proprio in conclusione che la nostra realtà aumentata sei giornali riparto dal tentatore di Turchia e quello dedicato all'accordo con la nascita di Turchia l'angela 4 del 4 governo della Merkel la Merkel è la stampa di Turino regina in un governo dalla Corte in particolar modo inizio di chiesti di Turchia e socialdemocratici con le prospettive secondo il messaggero e quello qua e l'abbiamo trapposito a diritto la dimagione all'oste e abbiamo a vedere come si definirà questo ministero all'opera del numero 2 del sindaco di Amico vediamo anche il titolo della storia di Turchia che riguarda se potrebbe essere il porto evocare la verità di nostro rete lo scopolo della rete con il tasto che è arrivata anche il momento che è arrivata in serata per quanto riguarda il punto americano su Italo titoli di tutt'altro genere se andiamo a vedere il resto del carico quotidiano nazionale perché riguarda le idee di giornata il nostro paese che è in particolar modo della rica è troppo a porto di Naria con le obbligatorie scritte da pensare di attività da notizia che ha fatto che ha citato la volta il posto di Teletra di un nuovo condone da parte del centro del centro che abbiamo da mattino di Napoli con Berlusconi che va rilanciato anche se subito c'è stato lo scopo da parte del suo alleato di un secondo di un momento che va a tenere in conclusione che voglio veramente fare gli ultimi 30 secondi a Stefano ma anche a Laura Busta il luogo di Spagno può diventerci dalle tuffe che è in certo del centro del situatore che cosa si fa da quali tuffe dobbiamo diventare abbiamo cercato di sistematizzare un po' nel momento perché si parla di tuffe in modo molto generico e abbiamo cercato di capire al nostro lettore che le tuffe sono ben identificabili e ci si può difendere soprattutto dalle tuffe ma anche da ciò che non sono tutto ma proprio che è sbagliato e anche finalmente ci sono anche comportamenti scorretti di banchieri banchari lo sportello che rendono prodotti che non sono all'altezza del proprio interlocutore e di spagliatore quindi diciamo che stiamo facendo fare un manuale all'interno del paese guidare il nostro lettore a evitare diciamo queste queste allora la borsa mi sa se ci saranno anche qualche della campagna naturale di tanto che sono spiegato se se è un manuale anche per dipendersi dalle promesse e non che è un sapore della di qua eh sì grazie 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 crede crede che si tratti di una reazione alla musica tipo earth rock underground questa taglia che è stata molto importante negli anni sessanta non credo si tratti di una reazione questa musica piace alla gente e ai padri gli anziani i genitori criticano i cantanti di oggi perché unico e tanti giovani hanno rifiutato ogni responsabilità riguardo alla formazione e lo stile di vita della violenza di stessa lei che credo che lei sbaglia a credere che il cantante arriva a tutto questo quando smetto di essere cantante come verete quanto la legislazione teatro torno a essere solo un forse il pubblico si serve di determinati cantanti che non chiedere certi dei e se i genitori se lo prendano piacereanno i film e certi cantanti piacciono i film non pensa che qualcuno abbia spuntato la preparazione a occupare un determinato posto vacante nel segreto di essere stato manipolato meno di molti altri loro intenzioni meritante di vendermi con determinate qualità e determinate qualità e non importa se il prodotto lo è fatto la realtà tutto ciò mi spaventa perché un giorno l'altro la gente chiederà ma allora perché mi hanno ingannato così la cosa che resta da fare è quella di continuare a recitare una parte che non la gente ormai di sì ma questo è il male minore di la lei deve arrivare al punto in cui non potrà più esprimere se stesso senza accettare qualche compromesso sì è una cosa che mi ossessiona come ho già detto io do certe cose a pubblico i miei dischi sono per il pubblico qualunque cosa io scrivo è per il pubblico tutto quello che faccio è di proprietà del ma la gente vuole anche sapere quello che penso privatamente quali sono le mie opinioni e ogni volta le mie idee sono deformate ho passato molto dentro e ho scoperto che non possono fare dire nulla senza che tutto venga esagerato più qualunque io invece vorrei dire che a altre mie canzoni non c'è niente sono un piccio colonna vedete questo normale voglio che sia proprio così ecco stinger il rivoluzionario così lo definiscono negli stati uniti per aver rinnovato la musica pop con il tradizionale già un esperimento che l'ho portato ad essere l'artista del momento con il suo deprimo del il sogno delle tante del il il disco dell'anno inciso da solo senza rapporto dei polisti tra i quali come è noto si è temporaneamente divisa e da solo sting arriva per la prima volta in Italia preceduto da una curiosità senza precedenza i vedi tra i suoi quattro concerti da Margeria a Roma e poi a Milano su Lampia a Roma sarà un giusto esaurito in questa intervista in esclusiva per Prisma la domanda è diplomatica tornerà insieme ai polisti non è successo niente di così negativo per separarci la nostra musica andava bene ma era inutile continuare una vecchia porco ci rimetteremo insieme per qualcosa di funzionante e sempre diverso così come ho fatto io adesso ho cercato musicisti diversi veri jazzisti come Daryl Jones bassista di Miles Davis per creare una musica che non fosse solo rock o solo jazz ma qualcosa di diverso è stato difficile ho messo su uno social di viola e ho invitato la jazz di Miami è stato incredibile mi chiedevo se sarebbero venute ma nel giro di due settimane eri dopo me in un video suonatore non ho fatto un'audizione ma ci siamo messi subito a suonare la mia musica uno schieramento brillante senza contare me un famoso cantante forte inglese che ricominciava da capo ma ci sono stati commenti politici sulle due nuove carigioni e può darsi ma non siamo mai stati tanto in pericolo come l'ora a causa delle centrali patriari delle tensioni tra este e over della fama in Africa mi sembra ridicolo oggi parlare di altro ma tu sei anche un divo del cinema e dopo due film di Tedaurentis hai già fatto altri due film non è vero? intanto ti devo dire che il cinema mi interessa molto ma non voglio rimanere il cattivo di tu a fianco di Marek Street ho fatto il film Playtime e finalmente sono diverso più me stesso un ragazzo innamorato ma ho accettato anche la parte del barone Frankenstein e la sposa promessa di riuscire a presto e ho come partner Jennifer Beals l'interprete di Flashdance però ci tengo di più ad essere musicista adesso la tournée nel mondo e poi da marzo 1986 non ho più progetti non so proprio cosa fare di riuscire a presto 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 a presto